Ecco Contessa, a lei! Parte da 32 metri la Cervelloni Mazzanti vien dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi Contessa, vadi! Ecco Contessa. L'altra bottiglia? Sì, prego. Riparte da 46 metri la Cervelloni Mazzanti vien dal mare. Capovaro, riposso andare? Rivadi Contessa, ma più centrale. Pantozzi questa volta preferì attendere in acqua la conclusione della cerimonia. Capovaro, ririprovo! Ririvadi Contessa, ma un po' più a destra! Qui lo raggiungono nell'ordine. Sindaco con fascia tricolore. Ministro della Varena Mercantile. 102enne baronese a filiguelli da Bonchamp, mascotte a vita della società. Tutte le autorità vennero poi furtivamente farate a parte. Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi tornano al cinema restaurati in due cappa. Vadi subito a comprare il biglietto alla cassa! Come umano, eh? Molto umano, ciao!